Benvenuto. Questa è la mia casa. Questa è la mia camera di letto. Qui vivo con mio amico Oli. C'è il mio letto e il mio armadio. A volte questa stanza diventa caotica. La mia stanza è una scrivania dove faccio i miei competi. Mi piace fare i competi nella mia stanza perché quando mi sento stanco posso guardare il panorama. Come puoi vedere di solito, abbiamo una bella vista sull'océano, ma sta provviendo. Questo è il mio bagno. Vado qui ogni mattina a farmi una doccia e lavarmi i denti. Questo è il mio dentifico, il mio spazzolino. Questo è dove studio per i miei esami. Mi piace perché non ci sono distrazioni, solo tavoli e sedie. Infine, questa è la cucina. Questo è dove mi cucino il mio cibo. Tuttavia, di solito vado a mangiare a Carillo. C'è un forno a e un'Лagoondina.